Romano Amodeo, io sono l'ultimo vero e così atteso profeta. D'accordo che un vero profeta è chi rivela la verità invisibile e trascendente, spiegandola nella piena libertà del suo Santo Spirito e nel pieno controllo della scienza, io lo sono. Infatti, mentre tutta la popolazione del mondo afferma il silenzio di Dio e il suo non far nulla, io affermo che l'altro mondo, trascendente quello reale, è l'azione negativa meno uno in potenza, come quel dieci elevato a meno uno che è alla base dell'unificazione del ciclo dinamico dieci imposto dalla scienza ad ogni unità della fisica. Quindi il nostro ciclo dieci reale del nostro mondo reale rappresenta solo la reale reazione all'altro mondo che è negativo. Io sto spiegando che azione e reazione è una interazione e precisamente il prodotto tra meno uno e più uno, che è uguale a meno uno, il quale rappresenta l'azione unitaria che esiste nel negativo, tra l'azione e la reazione, che noi dopo in modo uguale e contrario rappresentiamo come più uno, l'avanzamento positivo nel tempo dell'universo reale. In questo modo io metto l'altro mondo come la prima base del nostro mondo reale, relativo e reattivo. Io rivelo la verità invisibile che trascende la realtà, ma che è la sua vera e indiscutibile azione. Un vero profeta di Dio è chi è capace di valorizzare al meglio la trascendente azione di un Dio, chi afferma che il potere trascendente e assoluto dell'altro mondo non c'è, è un colossale mistificatore. Questo è assolutamente la verità, questa è la verità assoluta. Ma un profeta nella vostra idea è chi è capace di predire avvenimenti nel mondo. molto bene. Io vi dimostrerò a tutti. anche la capacità di fare profezie su quello che sta per accadere. io dico alle persone del mondo del mondo che in questo settembre 14 ho vinto il Super Enalotto. io affermo che il prossimo 14 settembre io vincerò il Super Enalotto. e questo perché io sono capace di conoscere la struttura intima della composizione del mondo. questo è scritto completamente nella Sacra Bibbia. in quel punto in cui Abramo riceve tre persone di Dio, in quel punto in cui Abramo riceve tre persone di Dio, vennero al mondo per distruggere Sodoma e Gomorra. Sì, andarono a Sodoma e Lot li difese. Ebbene, questo Lot, Super, che difende i tre rappresentanti di Dio, è il Super Enalotto. Vedremo se questo è vero. Vedremo se questa è la verità, che accadrà o meno. In questo giorno la Chiesa Cattolica sta esaltando la Croce di Dio. Questa sarà l'esaltazione della Croce di Dio, che Dio patisce in me. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.